devi credere in Cristo solamente, in Gesù Cristo devi pentirti, devi accettare la verità del Vangelo devi chiedere perdono al Padre che è nei cieli, a Dio, alleluia all'Onnipotente tu devi confessarti davanti a un uomo che sia un parroco, un prete, un pastore nessuno ti può perdonare ma solo Gesù, alleluia, ve lo dico con amore questa sera siamo qui a predicare il Vangelo è solo Gesù che può perdonare, è solo Cristo il Mediatore tra Dio e l'uomo è solo Gesù che ci può riconciliare con il Padre è solo Gesù, alleluia, che ha dato la sua vita alla croce nessun altro, non serve fare processioni, ridi, inchinarsi alle statue quelle sono cose del diavolo apri gli occhi, alleluia, Cristo ti vuole liberare alleluia è Cristo l'unico che ti può guarire, ti può perdonare, ti può dare la speranza tu non devi andare a fare un rito, chissà a Međugorje, a Fatima, al Vaticano e nemmeno alla Mecca se c'è qualche musulmano che mi ascolta, nemmeno l'Islam ti può salvare alleluia 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 alleluia, alleluia, gloria a Dio l'alfa e l'omega il principio e la fine alleluia il primo e l'ultimo e lui la salvezza per i peccatori è Cristo tu non ti devi inginocchiare davanti a una madonnina accendere le candeline fare le processioni portare in giro le statue libera queste anime è Satana che si nasconde dietro quelle cose Mattio l'Onnipotente il Dio di Israele il Dio della Gloria alleluia il Dio Eterno che ha mandato Gesù Cristo il Messia il re dei re nel mondo Dio è Spirito amén, alleluia sapratelo bene popolo della Sicilia Dio è Spirito